Sì, sono appena fuori dalla tracca sottomarina, ma non riesco ad entrare. Ho bisogno di te per farlo. La mia portilla sarà a meno di cento metri da me adesso. La mia portilla sarà a meno di cento metri da me adesso. Siamo venuti tutti qua giù, pensando di far parte della grande catena di Ryan. Salta fuori che la catena di Ryan è d'oro, mentre le nostre sono di quelle con i ceppi per le caviglie. Grosse palle d'acciaio. Lui sta lassù a far frolic a sbattersi modelle. E noi qua giù, in questa fogna, a mangiare budella di pesce. Tonten promette qualcosa di meglio. È uno come noi, insomma, quello che si dà da fare. Inizia di incontrarlo al suo impianto ittico, alle 11. Ci andrò con un paio di ragazzi. Tanto non ho niente da perdere. Usa l'interruttore su nella cabina di comando e fammi entrare. Vedo sia ora di stringirci la mano che fare conoscenza. Te la sei spassata, ma ora basta così. Se premi quel pulsante, imparerai cosa devi essere davvero mio nemico. Grazie a tutti. Hai fatto saltare una vangola lassù? Non riesco a vedere un accidente in quella cabina. Dati un attimo e ti farò uscire. Olla! Tesoro! Riesci a sentirmi? Sto venendo a prendermi! E' così buono io, come... Se solo il tuo amico riuscissi ad alzare lo sguardo e vederti... Forse... Potresti avvertire... Potresti dare qualcosa... Qualsiasi cosa... Tranne che stare con l'uomo... Non lo so... Non lo so... Non lo so... Ridominati! Sono dappertutto! Non ce la passo, devo impiegare! Tira fuori da mia famiglia e ci incontreremo appena possibile! Così... Dice... Il Signore! Primo genito! Ucciderò il tuo primo genito! Ehi, che ce la fai? Credo che ci ritroveremo! Anche a chilometri so... Dice... Anche a chilometri so... Dammi la mano! Andiamo a parlare con la scienziata Kruk. È emotivamente segnata, certo, come tutti gli ebrei scampati ai campi di concentramento. Ma non è pazza. Mi farà guadagnare tanto di quel grano da far sembrare Ryan un miserabile. Le servono solo dei rifornimenti per mettere in moto la macchina. E un amico che le guardie le spalle. Irrompi come un assassino e poi cerchi di scattaiolare i cuori come un altro. Tu non sei un agente della CIA. Chi sei? Perché sei venuto qui? Ci sono due modi per trattare un mistero. Eliminarlo. Eliminarlo. Esci. Esci subito e va all'Arcadia. Gesù Cristo. L'irlandese mi ha proposto un accordo. Io gli do Fontaine e me ne vado di qui. Semplice. Come faccio a sapere che quel grasso bastardo non è un uomo di Fontaine? Come faccio a sapere che non sono tutti uomini di Fontaine? Fontaine ha là da me tutti lo vogliono. Ryan è solo chiacchiere e bei vestiti. Non vieni sotto. Qualunque idiota riesce a capire da che parte tira il vento. alla prossima che devi. Per Infrast categalisti a vittorio. È una fine. A presto? Sono sirge sociale che mi ha impazzito.